Ciao a tutte ragazzi e oggi andrò ad eseguire 6 tutorial di nail art facilissimi per tutte adatte in ogni occasione al last minute. Seguite tutti i tutorial per capire come si fanno. Prima nail art semplicissima quando non abbiamo proprio tempo all'ultimo minuto semplicemente stendere uno smalto monocolore e poi in contrasto fare un piccolo puntino nero. Seconda nail art stessa cosa monocolore su tutte le unghie poi prendo lo smalto da nail art e traccio una linea verticale che divide in due l'unghia nera. Terza nail art vado semplicemente con il dotter e un po' di smalto nero a tracciare dei puntini sulla parte finale dell'unghia. Quarta nail art tolgo un po' di prodotto dal pennello dello smalto nero e vado a realizzare questo effetto sfumato su tutte le unghie. dopodiché con il dotter lo smalto bianco disegno dei piccoli puntini, puntini non mancano mai e ottengo così questo effetto davvero molto molto carino. Altra nail art last minute, la quinta, semplicemente realizzo questo effetto maculato su un'unghia mentre sull'altra quello zebrato. Se sta nail art anch'essa semplicissima, semplicemente con lo smalto nero vado a realizzare questa forma qui che sembra quasi un cuore, continuo via via poi con lo smalto bianco e ancora quello nero. Ragazzi fatemi sapere con un pollice su se vi è piaciuto il video, quale nail art vi è piaciuta di più, scrivete i numeri qui sotto e iscrivetevi al canale se non lo siete già e taggatemi mi raccomando se provatele nail art. Un bacione, ciao!